Ciao amiche di trucco, bentrovati in questo nuovo video. Allora, sono appena tornata, siamo andati a fare, anzi siamo andati, sì, siamo andati, ho portato i fanciulli a fare la visita fisiatrica, quindi mi son detta, invece di spogliarmi, perché come detto più volte, io come arrivo dentro casa mi devo togliere tutto, ho detto resistiamo un pochino e ci facciamo un po' di chiacchiere, che poi non so neanche, ho buttato qui intorno cose, quindi non so neanche quale sarà il titolo e quale sarà il tema di questo video, saranno chiacchiere così random. E tanto per iniziare, allora dalla mia borsa mi voglio ritoccare un pochino il gloss, così vi faccio vedere quale indosso, perché in qualche commento una ragazza mi aveva chiesto, insomma credo si riferisse al gloss di Essence, così lo faccio rivedere, e quindi vi faccio vedere anche i prodotti labbra che porto con me, perché ovviamente non è che posso portare un prodotto solo, no, che cosa succede il più delle volte, che io sono abituata a portare sempre con me il prodotto labbra che indosso, questo ormai da secoli, e va a finire che poi rimangono in borsa, vediamo un po', allora, e quindi vi faccio vedere, quindi io che faccio? Siccome non ritocco mai il trucco, ormai è raro che passi anche le assorbisebo, quantomeno nella stagione fredda praticamente non lo faccio mai, in quella calda se sono particolarmente lucida lo faccio, però insomma sembra aver retto, anche perché non siamo stati fuori poi chissà quanto tempo, quindi vi faccio vedere intanto le cosine che porto dietro con me, allora, quello che indossavo oggi, che ho messo oggi è questo di Essence, ed è il numero 07, ve lo faccio rivedere perché, ecco forse così, non si vede nulla se è tutto cancellato portandolo in borsa, comunque sono gli ultimi gloss usciti con il tappino bianco che probabilmente si riferiscono a tutta questa nuova linea che è uscita, di cui vi farò vedere qualcosina, e così facciamo queste chiacchiere così che ci rilassano, e tanto me lo voglio riapplicare, perché vi dicevo, io in giro non ritocco mai il trucco, però il rossetto sì, il rossetto non mi faccio proprio problemi, esattamente come ho fatto adesso, allora, questi gloss, come già vi ho detto, ve li consiglio vivamente, a parte che con questo caldo, quantomeno io ho tutti i miei rossetti, o meglio, quasi tutti, ne ho lasciati pochissimi qui nella mia pochetta che tengo sulla mia scrivania, sono tutti in cantina, perché soprattutto i MAC sudano di brutto, e quindi ho, già sono rossetti che insomma, la maggior parte dei rossetti che ho sono anche un po' datati, c'è da dirlo, e quindi preferisco l'estate con questo caldo portarli in cantina, perché veramente quelli MAC sudano proprio, e comunque anche quelli più secchi sono troppo morbidi, troppo pastosi, per cui io in questo periodo vado di gloss, oppure di tinte, e sulle tinte metto sempre un pochino di labello, allora vi faccio vedere, qua nella mia pochetta che viene, se cambio borsa questa c'è sempre, ve l'ho fatta vedere più volte, ho questo prodottino qui per esempio, ho questo per le cuticole sempre, perché le cuticole io le idrato sempre, e in continuazione perché fanno la differenza, vabbè, buttiamo un chiacchiere così, dai, allora, quindi ho questo qui, vabbè lo specchietto che avete visto, ho questo burro cacao di Sephora, questo lo uso per i fanciuli, soprattutto per Flavio che ha sempre le labbra molto secche, cremina mani, e ho questa dell'Ossitane che è praticamente quasi finita, infatti ce n'è poca poca, infatti ho già messo quella nuova, che è un'altra dell'Ossitane, queste ce le ho da tempo, le avevo prese in un kit un tempo fa, vabbè, svariati campioncini di profumo, tessere varie, documenti vari, il moment che ormai non può più mancare, una limetta perché non si sa mai, questa di Essence piccolina, e qualche cerotto, vabbè, più o meno ci sono queste cose qui, e poi ci tengo sempre questo balsamo qui di Clarenne, questi si trovano solitamente nei kit, sono tutti, diciamo che vaniano un po' le colorazioni, ma sono tutte molto molto simili, perché poi sono veramente quasi trasparenti, e mi piacciono molto anche se sulle labbra, almeno sulle mie, durano veramente pochissimo, però quando sono in giro e magari il prodotto labbra che ho, se ne è andato, se non voglio rimettere o star lì a rimettere perché magari è un po' più laborioso, perché magari è una tinta labbra, perché magari è un rossetto un pochino più scuro, quindi devo stare attenta a disegnare bene i contorni, metto questo e ho le labbra idratate, perché io, se c'è una cosa, ma da sempre, che non riesco a sopportare, sono le labbra secche, quindi che sia la bello quando avevo 15 anni o questo, insomma, qualcosina per idratarle le ho sempre, e idem, la penina questa ve l'avevo fatta vedere quando ho fatto il video sulla manicure, queste penine qua, per idratare le cuticole ce le ho sempre, perché cambiano l'aspetto delle mani, le cuticole secche, poi a parte mi danno fastidio e quindi sto lì in continuazione a torturarle, e quindi questo e questo stanno qui, ci ho messo anche questo glossino qui, che è una mini taglia di un gloss di MAC, anche questo ve l'avevo già fatto vedere, è un lip gloss, che è praticamente quasi finito, adesso mettendolo così si è un po' sparso, però ce n'è pochissimo, e quindi l'avevo messo in borsa, perché lo metto spesso proprio per finirlo, è il Love Child, ma non lo metterà mai a fuoco, Love Child, ed è un malva con diversi glitterini dorati, però devo dire che sinceramente preferisco mille volte questo da, neanche 3 euro costa questo di Essence, perché questo è un po' più passosetto, ci sono troppi glitter, che poi rimangono, si vedono sulle labbra quando va via, non mi fa impazzire, è un buono per carità, ha un bel effetto sulle labbra, resiste molto bene, ma sinceramente quello di Essence lo batte alla grande, anche perché quello di Essence, anche se va via, vi dà quella sensazione che le labbra sono comunque idratate, quindi rimane sempre un pochino, rimangono un pochino pochino lucidine, e vi rimane sempre la sensazione di labbra che sono, che non sono secche, quindi mi piace tanto, poi dà quel lievissimo pizzichino, cioè sentite un po' l'effetto mentolato che vi dà la sensazione di avere le labbra più turgide, ma poi è tutta una sensazione così, un effetto placebo. Altri prodottini che porto con me, che avevo adesso in borsa, poi ecco adesso per esempio li vado a posare, però capita che non sto sempre lì a controllare, anche perché non sono una che cambia borsa spessissimo, adesso sto usando questa perché per le mie esigenze va benissimo, mi piace perché è bella colorata, è allegra, è capiente, è comoda, è leggera perché è soffa, quindi anche se ho un po' di cosine dentro non mi pesano, perché in questo periodo per esempio più viola, ma anche i Flavio perdono sangue dal naso, quindi porto tanti Kleenex perché non si sa mai, le salviette e gli occhiali da sole e quindi la custodia c'è sempre in borsa, insomma ho bisogno e poi spesso esco per fare visite, commissioni varie, quindi mi serve anche l'agendina, quest'anno ho inaugurato l'uso dell'agendina perché ho sempre tenuto tutto a mente, non avendo gli impegni di un amministratore delegato, però vedo che la mia memoria sfarfalla sempre più, quindi viola mi ha detto mamma ti do un agendina, ti regalo un agendina, lei queste cose ci va matta, ti do un agendina così ti segni le cose, quindi insomma un po' di cosine in borsa ci sono, oggi stranamente non ho portato il libro perché sapevo che non avrei letto, anche se poi ho le applicazioni per leggere anche sul telefono, quindi però ho preferito non portare nulla, poi altri prodottini che mi porto, che mi porto, che mi dicevo avevo in borsa e che sono tutte cose che comunque vi ho fatto vedere in video recenti, sono questo gloss di Wet n Wild, i cut sweet, anche questi sono favolosi, questo ve l'ho fatto vedere indossato in un video precedente, anche questo hanno una pasta veramente piacevole sulle labbra, le rendono idratate, non è un effetto proprio vinilico esagerato che a me non piace, è un bel color nude tendente al marroncino ma diciamo non di quei marroni un po' troppo esasperati, anche se come potete vedere ultimamente con questi colori ci vado proprio a nozze, mi piacciono tantissimo perché sulla mia carnagione secondo me stanno bene questi toni caldi, li trovo naturali, portabili, ma comunque fanno risaltare comunque le labbra e quindi questo che vi straconsiglio costa mi pare 5€, adesso lo mettiamo qui perché poi li poso, poi una tinta di queste di L'Oreal, anche queste ve le ho fatte vedere, ve ne ho parlato e sono le mie preferite, queste di L'Oreal e quelle di Astra sono tra quelle che vi ho mostrato in un video precedente, sono assolutamente le mie preferite, questo è un colore bellissimo, anche questo è un marroncino, queste tinte hanno un pochino il difetto di tingere le labbra, però dipende dalla colorazione, quella che ho rosa le tinge e rimangono poi tinte di un rosa anche un pochino acceso però a me non dispiace, queste invece vanno via e anche se tingono proprio poco poco poco, non creano inestetismo, mi piace tantissimo l'applicatore, fatto così il prodotto è gradevole sulle labbra anche se poi io vado sempre a mettere questo, non lo tolgo mai dalla borsa, proprio il labello addetto alla borsa ed è anche un pochino colorato, è lievissima la colorazione ma si sposa benissimo alle colorazioni delle mie tinte, quindi questo lo rimetto in borsa e poi ho sempre questo portarossetti che ho preso anni e anni fa da Tiger e avevo questa tinta di Astra che è la numero 13 che è tra le mie colorazioni preferite ed è la Gossip Girl, anche questo è un nude un pochino marroncino, pescato, caldo insomma, è molto bello come colore, questo è tra le mie preferite proprio, bello 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 comunque vado veloce perché ci ho fatto già un video quindi non vorrei essere ripetitiva e quindi oggi però in velocità sinceramente ho fatto un trucco molto molto veloce, una leggera base sugli occhi ho un ombretto di MAC che si chiama Shale, che è un ombretto che mi piace tantissimo così un soft smoky e basta, e passa la paura allora poi, quindi questi erano i prodotti che ho nelle labbra sì, nelle labbra, ragazze scusate ma sono veramente, a me il caldo, l'ho già detto in altri video, butta veramente giù vorrei fare tanti, cioè non mi manca l'entusiasmo e la voglia di fare video però veramente il caldo mi butta giù poi in tutte le cose, anche in casa vorrei fare tante cose, però il caldo mi toglie qualsiasi energia insomma, sento proprio i neuroni che friggono allora poi, dalle labbra passiamo alle mani vi faccio vedere lo smalto che indosso, che è un rosso guardate che bello e adesso vi racconto della mia scoperta dell'acqua calda allora, è da tanto tempo che giravo attorno al semi permanente allo smalto semi permanente considerate che io metto lo smalto, ma veramente da una vita da una vita, perché io da ragazzi, io avevo l'età di Viola e io stavo sempre con la limetta in mano cioè, sono sempre stata fissata ovvio, anni fa, prima dell'avvento di Youtube non è che avessi chissà quanti smalti diciamo, sempre una quantità maggiore rispetto alla norma insomma, quello che vedevo tra le mie amiche e conoscenti insomma, ho sempre una bella pochettona piena di smalti ma il più delle volte mettevo i classici nude sposina poi vabbè, mi sono lasciata andare al colore mi ricordo che i primi smalti che sono presi furono quelli di Kiko quelli della linea classica di cui ne ho tantissimi e che continuo a sfruttare infatti li tengo in questa pochettina qui questi qua per capirci a me piacciono tantissimo ne ho tanti e mi sono sempre piaciuti li ho sempre sfruttati molto bene allora, e vi dicevo e quindi io sinceramente ho sempre fatto la manicure con la modalità classica base, smalto, top coat e punto poi siccome le mie inghiette sono spesso e volentieri sfaldate nonostante io le curi moltissimo quindi a me lo smalto non dura mai tanto cioè io metto lo smalto il giorno dopo o l'indomani ancora ho comunque la linetta bianca poi comunque occupandomi delle faccende domestiche pur mettendo i guanti ma comunque smaneggiando in giro anche col top coat migliore del mondo sì, rimangono lucide però si vede che un po' perde la lucentezza un pochino si graffia e poi io sono una perfezionista e quindi non lo posso vedere quindi lo smalto io lo cambio molto molto spesso succede che però che a volte non sia nonostante sia abituati a quella routine e io adori fare la manicure perché comunque mi rilassa è vero anche che ci sono momenti in cui io non è che ho tutto questo tempo da dedicarci anche perché la manicure se si deve fare cioè va fatta bene perché è inutile stare a fare tutti i passaggi quando poi magari se non aspetti il tempo necessario poi ti ritrovi con lo smalto rovinato è brutto per cui per cui insomma è tanto tempo che giro attorno al semi permanente anche se non mi sono mai documentata a fondo perché lo trovavo comunque un po' laborioso e io non ho pazienza poi comunque devo fare un investimento e non ho cioè già ho tantissimissimi smalti quindi andare a spendere soldi per comunque prendere a parte base lampade e queste cose qua comunque degli smalti specifici non lo so non ero convinta perché costicchiano perché comunque voglio cambiare spesso quindi io non sarei mai capace di stare con 3, 4, 5, 10 smalti io sono una che cambia spesso anche se poi le tonalità più o meno sono sempre quelle però mi piace cambiare insomma per una serie di motivi e anche per il fatto che avevo paura di rovinare ulteriormente le unghie non mi sono mai azzardata a fare l'investimento poi un giorno mi si è accesa la lampadina e mi sono detta ma è possibile che non posso mettere il semipermanente sopra uno smalto classico girando un po' così su Amazon su Google anche su YouTube ho trovato delle recensioni in cui c'è qualcuno che insomma lo fa in quel modo il semipermanente ovvero base classico smalto io adesso per esempio ho messo questo qui una volta che si è asciugato ci si fa la passata di 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 semipermanente allora ho indagato un pochino insomma sui top coat sulle lampade e ho visto che insomma l'investimento non era eccessivo e ho voluto far la prova e mai scoperta devo dire fu più felice perché adesso io riesco a tenere lo smalto per diversi giorni anche tanti giorni per i miei canoni e riesco comunque ad avere una manicure che si mantiene praticamente perfetta io questo adesso non ve lo so dire perché mi scordo sempre le tempistiche però la prima volta l'ho tenuto tipo nove giorni e l'ho tolto unicamente perché mi si era lievemente fatto proprio una scheggiatura ma minima solo che io stavo sempre lì perché come sento qualche asperità io devo stare sempre lì a stuzzicare e quindi ho detto vabbè lo tolgo allora vi faccio vedere che cosa ho preso premettando però lo sapete io sono un'appassionata di manicure ma non sono una professionista del settore non ho fatto corsi e nulla quindi queste sono puramente delle chiacchiere se volete sperimentare assumetevi le vostre responsabilità perché insomma io non vi garantisco nulla io vi racconto quella che è la mia esperienza che ho avuto sulle mie manine sulle mie unghiette insomma io poi sapete non è che faccio questo di mestiere però insomma ho voluto provare e mi sono presa questa lampada ve le faccio vedere sbrigativamente poi casomai ci ritorniamo anche perché non voglio fare un video troppo troppo lungo allora la lampada che ho scelto è questa qui di questa marca l'ho presa su Amazon a 16 euro l'ho pagata comunque ce ne sono di tutti i prezzi lì ci sono le recensioni io ne avevo selezionate alcune in realtà ne volevo prendere una più piccola che veniva 10 euro si ripiegava però poi parlandone con mio marito ho detto magari è troppo piccola ma spendi qualcosina di più e fatela più decente insomma è questa qui fatta così anche il display mi piaceva che ci fosse il display e qui hai tre tastini che indicano il tempo questa parte qui si stacca va con i magneti ma aiuta a diffondere ancora meglio la luce perché è ovviamente di metallo quindi specchia e ha il capetto di questi qui osb quindi io l'attacco e va bene e quindi mi sono presa questa lampada a 16 euro ti faccio vedere il marchio questo qui comunque vi ripeto ce ne sono una marea veramente una marea di tutti i prezzi ci sono una marea di recensioni quindi io con amazon mi affido sempre anche per questo perché posso vedere proprio il parere del cliente insomma e come top coat ho preso questo qua ho preso questo perché in una recensione una ragazza praticamente diceva che lei lo usa appunto sullo smalto normale classico e che non ha bisogno neanche di essere sgrassato perché a quanto ho capito gli smalti top coat classici una volta usciti dalla lampada hanno bisogno di della lucidatura perché se no sono appiccicosi invece questo è come un top coat classico allora brevemente che cosa faccio io faccio semplicemente la mia classica manicure le molle unghie metto la base scelgo il mio colore faccio le mie due passate e metto anche il mio top coat aspetto un bel po' di tempo affinché lo smalto sia proprio asciutto alla perfezione perché la lampada led led vb si queste entrambi non asciuga l'acrilico e quindi che faccio l'ultima volta per esempio l'ho fatta la sera prima di andare a letto l'ho fatta asciugare sono andata a letto la mattina dopo ho passato il top coat passo questo top coat proprio come un classicissimo top coat normalissimo solo che poi lo faccio asciugare in lampada per 120 secondi faccio 90-90 30-30 e uscito da lì è lucidissimo liscissimo ed è fantastico l'accortezza che ho è quello di passare sia la base che tutti i vari passaggi comunque anche bene qui proprio sul bordo cosa che io prima non facevo sinceramente però almeno con questo si va a sigillare bene io considerate che adesso ce l'ho da diversi giorni saranno 8 giorni ora non vi so dire di preciso perché non sono stata a controllare però ce l'ho da diversi giorni si è fatta un pochino la lunetta eh ma come vi faccio vedere un pochino la lunetta sopra non so se si vede ma poco insomma cioè se voi guardate la manicure sta bene come vedete la riprova che l'ho fatta da giorni è anche la ricrescita adesso io le voglio andare a scorciare perché a me già queste che escono così non mi piace poi mi danno proprio fastidio mi dà fastidio proprio la lunghezza quindi o stasera o domani insomma la rifarò ma sono veramente soddisfatta perché rimane veramente lucido considerate che io sto facendo anche le faccende anche i piatti senza guanti perché fa caldo quindi stare con le mani sotto l'acqua fresca mi fa piacere insomma a meno che non devo usare proprio detersivi aggressivi ecco il bagno magari lo faccio con i guanti però sinceramente la cucina vado così e quindi cioè guardate com'è bello lucidissimo no sono troppo contenta e quindi questo qui invece l'ho pagato 7 euro quindi bisogna fare attenzione non andare né troppo sopra il giro cuticole né qui ai lati insomma un pochino di attenzione nel mettere nel passarlo perché poi si secca è da comunque da fastidio però veramente sono proprio contenta dell'acquisto perché vi ripeto ci giravo intorno da non vi dico quanto tempo e ultimamente mi era scattata di nuovo la fissa perché ero andata d'acqua e sapone e predente d'acqua e sapone hanno messo tutta la linea semi permanente di Laila quindi c'era sia la lampada i vari top coat base ma altri prodotti di cui io poi non sono sinceramente espertissima perché non mi sono addentrata più di tanto perché comunque cioè lo vedevo troppo laborioso e io mi scoccio e poi che cosa faccio per la rimozione allora la prima volta che l'ho rimosso praticamente ho comprato un classico solvente con acetone e l'ho lasciato l'ho messo su un cotoncino ben imbevuto e l'ho lasciato bene a bagno però è stata appella bollosa quindi la seconda volta che cosa ho fatto con una lima che mi sa che non ho portato vabbè una classica lima ho limato lo strato superiore perché comunque io di semi permanente ho soltanto il top coat sotto c'è lo smalto classico quindi sono andata a topacizzare tutta la parte superiore per questo vi dico non mi assumo responsabilità perché su questo bisogna saperlo un pochino fare un conto e mettere soltanto lo smalto ci siamo la cosa più diciamo laboriosa è un po' la rimozione perché quando uno va a limare sulla superficie può fare anche danni quindi va fatto con una certa accortezza senza esagerare quindi comunque il colore sotto l'ho lasciato ho solo tolto diciamo lo strato superiore e poi l'ho usato il classico servente qualche residuo che è rimasto l'ho tirato via con un semplice spingi di cuticole tipo questo io ho questo qua con questo qui rimane qualche residuo e con questo questo cosino qui ho tolto i residui e vi dirò che quando l'ho tolto l'unghia sotto stava meglio cioè meglio delle altre volte in cui ho andato a togliere lo smalto insomma senza semi permanente quindi probabilmente anche il fatto di non fare la manicure troppo spesso ma comunque di avere lo smalto che protegge l'unghia questa è un'illazione mia probabilmente gli ha fatto bene quindi questa è la terza volta che lo faccio e vi dico che comunque sia la diciamo la durata della manicure secondo me dipende anche dallo smalto che c'è sotto per esempio la prima volta avevo applicato questo smalto qui che è uno dei nuovi di Essence e questi qua sono veramente degli smalti ottimi e vi dico appunto io l'ho tolta perché si era proprio scheggiato poco 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 però la lunetta si è cioè si è mantenuta colorata per tanti tanti giorni mentre invece oggi che ho usato quest'altro qui sempre di Essence della linea precedente che non ha di una qualità eccelsa è durato un pochettino meno ma vi dico insomma ce l'ho sempre da tanti giorni insomma sono proprio questioni di sottigliezze vi faccio vedere con l'occasione gli smalti che ho di questa linea di Essence allora io ho preso sia quelli proprio io non ho capito se questi qua stanno in linea permanente o se è una collezione limitata non lo so o se ci sono determinate colorazioni che sono in linea permanente e poi ne sono uscite altre in edizione limitata questa cosa non l'ho capita comunque sia io in una prima tranche ho preso questo colore qua che è meraviglioso questo è talmente bello è talmente bello che io l'ho regalato anche a mia cognata ed è il numero 10 love me like you do numero 10 non ve lo faccio vedere perché tanto non penso che si veda no ma no numero 10 comunque che è un bellissimo classico malva nude malva che sono quei colori che stanno bene a qualsiasi età la volta dopo siccome mi era piaciuto tantissimo ne ho presi altri due e sono questi un classico top che a me piacciono sempre ed è il numero 24 we go together e poi questo particolarissimo duo chrome che è il numero 22 ed è i believe che è un azzurrino molto spento con dei riflessi rosa ma è veramente bello sono abbastanza densi come consistenza però vi dico che questo l'avevo quando l'ho messo la prima volta veramente sembrava avessi una manicure proprio professionale sembrava avessi il gel non l'ho usato con il semi permanente però eh quello l'ho non ce l'ha da poco quindi l'ho usato da poco e poi un'altra volta che mi trovavo lì a Cinecittà 2 sono andata a riprendermi vabbè insomma al centro commerciale ero andata con la scusa ero uscita sempre dall'ennesima visita no lì avevo fatto un esame pure e dolorosetto però siccome mi sentivo bene e stavo da sola ho detto vabbè faccio una tappa al centro commerciale così vado a riprendermi il mascara ho visto questa nuova linea allora questa linea è bellissima perché a parte che i colori sono stupendi sono tutti nude ma non nude smortini insomma dei nude chiari nude cioè nude per modo di dire colori anche più scuri e hanno i rossetti abbinati i rossetti io li ho swatchati mi sembrano di una qualità molto buona praticamente dei matt satinati diciamo non troppo secchi comunque molto compatti molto morbidi alla stesura però non li ho voluti prendere proprio perché proprio in quei giorni tutti i rossetti avevo trasferiti in cantina comunque non tanti insomma ho voluto fare la parsimoniosa sugli smalti non ho saputo cedere e ne ho presi due il numero 2 che è happy e il numero 4 che è crazy vedete sono dei colori molto naturali questo l'ho messo ed è bellissimo è durato tantissimo io l'ho tolto solo per quella sbeccatina ma comunque si poteva tenere benissimo perché è una cosa proprio impercettibile da un lato probabilmente ho dato una botta non lo so e quindi questi sono gli smalti che ho preso i rossetti un po' mi sono pentita di non averli presi però insomma comunque se ne ho tanti e quindi non mi andava di insomma di esagerare ecco e quindi questo insomma per quanto riguarda chiacchiere manicure rossettini insomma chiacchiere un po' frivolini no del semipermante ragazzi c'è una soddisfazione incredibile anche perché io con questo caldo mi si gonfiano le mani mi danno fastidio quindi anche a fare la manicure insomma mi fa fastidio no e poi capita insomma che uno magari ha un'occasione non ce la fai a rimetterlo o proprio non ti va o non trovi qualsiasi cosa insomma comunque avere la certezza che lo smalto un pochino di più ti dura che ne so una vacanza magari uno mette un rosso un colore acceso un colore nude anche se poco poco si rovina però va sicuro la lunetta magari un pochino si fa ma la superficie rimane veramente lucida quindi la mia scoperta dell'acqua calda veramente mi ha reso proprio felice e niente per questo primo video chiacchiericcio è tutto io fatemi sapere cosa ne pensate e niente intanto vi mando un bacio glossoso a tutte muah